Una cosa che ogni pianista deve e farà prima o poi è quello di svolgere degli esercizi monotoni. Possono essere dei semplici esercizi tratti dai manuali più famosi come l'Anon, oppure semplicemente un passaggio tecnico di un brano ripetuto tante e tante volte. Questo per sviluppare la tecnica e l'agilità. Quando ti eserciti in questo modo però devi stare molto attento, perché la verità è che per quanto ci piace il piano, svolgere la stessa azione in continuazione anche per un quarto d'ora o mezz'ora stanca, stufa, ci annoia tantissimo. Sicuramente sai di cosa sto parlando, sei lì che stai facendo per esempio le scale avanti e indietro e a un certo punto cominci a distrarti, a guardarti intorno, a non prestare più attenzione a come tieni le mani sulla tastiera, alle note che suoni, cominci a essere impreciso sul tempo e fare una serie di errori che di solito non fai. E questo soltanto perché sei stanco e annoiato dell'esercizio. Quando ti eserciti in questo modo però rischi intanto di perdere tantissimo tempo e sviluppare anche delle cattive abitudini, ma soprattutto non migliori quanto vorresti, quindi non sfrutti veramente lo studio che stai facendo. Un modo per superare questo problema è rendere i tuoi esercizi un po' più interessanti o quantomeno aggiungere dei dettagli, delle caratteristiche che ti costringono a stare attento. Per esempio ogni volta che svolgi l'esercizio puoi decidere di suonarlo una volta staccato e una volta legato. In questo modo sei costretto a prestare attenzione all'alternanza di questi due tipi di articolazione. Un'altra cosa che faccio invece è pensare alla dinamica. Per esempio suono pianissimo, fortissimo, oppure faccio dei crescendo e diminuendo. Quando studi le scale una cosa che puoi fare per esempio è prendere una piccola cellula ritmica da un brano o una melodia che conosci e suonarla su tutta la scala a tempo. Un'altra cosa che puoi fare è per esempio agire sulla velocità. Puoi uscire dalla tua zona di comfort, quindi se stai studiando un passaggio che è particolarmente veloce suonalo lentissimo, suonalo a una velocità media e poi velocissimo. Prova a vedere quali sono i tuoi limiti e prova a superarli. Se suoni jazz un esercizio molto utile è quello di prendere uno standard ed esercitare per ogni accordo del pezzo la relativa scala e l'arpeggio. Puoi svolgere questo esercizio anche a tempo o con una base. Un altro esercizio interessante è quello di prendere la parte, la frase più difficile in assoluto del brano che stai studiando ed esercitarla come riscaldamento a velocità bassissime. Questo ti permette sia di ripassare la parte, di memorizzarla meglio, sia di sviluppare la tua tecnica e provare giorno per giorno ad aumentare la velocità. Tutti questi piccoli stratagemi possono aiutarti per rimanere più attento durante le tue sessioni noiose di esercizio. Questo ti aiuta a percepire l'esercizio più come un brano, un pezzo, che non una ripetizione monotona di movimenti. Grazie. 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 Grazie.